Centroteri, in via Gino Palumbo numero 19, a Cava dei Tirreni. La Confesercenti di Cava dei Tirreni ritorna a trattare la problematica relativa ai parcheggi a pagamento ed in particolare del costo degli stessi attraverso una richiesta al Sindaco per sostenere il commercio cavese. Nello specifico, la Confesercenti di Cava dei Tirreni chiede all'amministrazione comunale di rivedere il piano della sosta e dei parcheggi, adottando una revisione dei prezzi dei ticket in tutte le zone della città. Nella richiesta al Sindaco, la Confesercenti afferma che la nostra città sta vivendo una stagione di grandi trasformazioni urbanistiche con la realizzazione di importanti opere che se da un lato sicuramente hanno un impatto positivo sulla vivibilità dall'altro stanno creando sofferenza al commercio del centro storico, a quello che veniva definito il centro commerciale naturale, di cui purtroppo non si ha più nessuna notizia. Come Associazione dei Commercianti ribadiscono che le strisce blu non sono un danno al commercio ma consentono una turnazione della clientela, evitando l'occupazione per ore e per giorni degli stali disponibili. Ciò premesso, anche in considerazione di quanto già richiesto con la comunicazione del 19 aprile 2024, ovvero di un nuovo piano urbano del traffico e della sosta, per trovare le migliori soluzioni al problema della circolazione veicolare. Nel contempo si chiede una tariffazione delle strisce blu di 1 euro per il centro, 50 centesimi per gli altri stalli più distanti dal centro per le prime due ore e l'introduzione della tariffazione a minuti fin dalla prima ora di sosta con l'eliminazione della doppia tariffa che riguarda gli orari della Movida di 2 euro all'ora nei parcheggi dalle ore 21 alle ore 6 e su strada nella zona A dalle ore 22 alle ore 24. Si richiede inoltre di prevedere un abbonamento per i lavoratori di 50 euro al mese per le aree di sosta di via Gramsci e area mercatale.